La Corte d'Assise di Catanzaro ha combinato tre ergastoli a Antonio Bagnato, Antonio Marrazzo e Antonio Cianflone nell'ambito del procedimento Trigarium relativo all'omicidio di Rocco Castiglione e dal tentato omicidio del fratello Raffaele avvenuti a maggio 2014 a Rocca Bernarda. La Corte ha condannato anche altri due imputati. Trent'anni sono stati inflitti a Michele Marrazzo e dodici anni al collaboratore di giustizia Domenico Iaquinta. Assolto, così come chiesto dal PM della DDA di Catanzaro Paolo Silleo in sede di requisitoria, Gianluca Leonetto. Secondo l'accusa, Antonio Bagnato è stato l'ideatore dell'agguato e gli altri gli esecutori che si sono suddivisi i compiti di vedetta, di trasportatori di armi, di preposti a condurre i mezzi per allontanarsi e di materiali attuatori del piano micidiario. Per l'agguato, il 31 maggio 2014, sono stati usati tre fucili con matricola a brasa con i quali i sicari spararono contro l'automobile all'interno della quale viaggiavano su una strada di campagna fuori dal paese di Rocca Bernarda Rocco e Raffaele Castiglione. A raccontare le dinamiche dell'agguato ai carabinieri è stato Raffaele Castiglione che, scampato all'agguato, si era dato alla fuga e aveva raggiunto la caserma per chiedere soccorso. L'omicidio sarebbe nato in seno a logiche di potere e controllo del territorio poiché la famiglia Castiglione era refrattaria ad allinearsi alle direttive del capo locale Antonio Bagnato.